Io ho chiamato un amico a filmare tutte queste prove, intanto perché volevo in qualche modo che ci rivedessimo in uno specchio, io la band, che vedessimo come siamo in un momento così tutto sommato privato come è quello delle prove, dove una cosa può andare male, dove uno può mettere un accordo sbagliato e quindi di solito queste cose uno, non dico che vuole nasconderle, ma insomma non cerca di dargli grande enfasi, invece volevo proprio vedere questo specchio e mi piaceva anche che questo sguardo un po' dal buco della serratura venisse esposto sul nostro sito, venisse offerto, venisse regalato a chi dimostra attenzione e affetto per il nostro lavoro. Sicuramente è un taglio diverso da quello che si può vedere normalmente nei film e nei documenti visivi che recensiscono il lavoro di noi musicisti, insomma, perché è girato molto bene, molto accurato ed è uno sguardo anomalo, mi piacciono le anomalie, insomma, sempre fatte con rigore, sempre fatte con rispetto della forma, perché non è che… ecco, io non credo che si possa girare tutto con un telefonino alla fine, anche se questo è molto trendy adesso, credo che il cinema per scomodare un parolone, abbia delle sue regole, delle sue necessità che vanno rispettate, quindi abbiamo guardato dal buco della serratura, però abbiamo cercato di guardare bene.